il mio ultimo direi che devi puntare il piede è o che ho spinta ok, pronto? la palla poi ce ne ho ragione a terra o mezza altezza o alta, ok? via com'è vai di là falso ok, torna veloce Leo palla, Leo palla, forza vai 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 no, piatto bravo, occhio al parato vai no, scendo giù prima variato il tempo bene bene occhio eh via ok 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 bravo ce l'ho, ce l'ho Matteo, ce l'ho ce l'ho Matteo, tranquillo tienilo là vai perché vai prima eccolo sì, bravo, veloce oltre va bene va bene ok, qua devi spingere un po' di più la spingi di più vai troppo indietro però la spinta c'era ok, buono vai vai oltre buono vai oltre ok attacco un po' di più però forza vai bloccala prova a bloccarla questa è la bloccabile oltre bravo bene vai 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 è toccata vai no, no basta dietro vai vai non riesce a puntare bene gol oltre vai sì, su fermo là va bene va bene buono vai torna ancora di là tardi è piatto fermo oltre va bene è troppo alta ok vai fermo là vai 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 no 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 vai con la una questo è party vai oltre 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 fermo là non troppo troppo fin qua fin qua fin qua fin qua fin qua fin qua fermo là hai visto però fai due passi però fai due passi devi fare uno vabbè guardi fermo là non c'è non c'è più non c'è non c'è più non c'è vinto fermo fermo Ok, un po' indietro ma andava bene la spinta. Ok, un po' indietro. Ok, un po' indietro ma andava bene la spinta. Ok, un po' indietro ma andavano bene entrambe però. Stop!